Cavalca via, è come una magia, se dici una bugia, ti porta in Ungheria. Cavalca via, non fuma la Maria, perché la polizia, se no lo porta via. normalia Attenzione, su questo canale si utilizza un linguaggio esplicito e comune, se propone un tipo di comicità irreverente, qui spesso vengono usate parolacce e volgarità in genere. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consiglio di non visionarne i contenuti. Ma che casso si trovi a dire, more? A sbregaffioi qua è il Maseo e oggi siamo qui con un video un po' part... No, niente di che, niente di particol... Ragazzi, uccidetemi! Primo video dell'anno Eh, sapete cosa? Facciamo una roba del genere Più, più deep Allora, primo video dell'anno stavo dicendo non posso appoggiarmi sulla scrivania Perché sennò trema il tremore e quindi arriva l'Alzheimer e tutto il resto che ne viene appresso Allora, di cosa dobbiamo parlare? Io non devo fare sti video Reso conto dell'anno, di quest'anno che ha portato tante soddisfazioni Ai soldi! Il filipadaro sarà tutto mio, tutto mio Tutto, tutto, tutto mio Oh, ma che cazzo c'è l'hai oggi? Allora, volevo fare il riassunto di quello che è stato il mio anno su questa piattaforma E bisogna cosplayare, naturalmente, Marty McFly Tornare indietro nel tempo No, ritorno al futuro No, al passato, al futuro Eh, anche se lui va nel futuro Noi andiamo nel passato C'è da fare una premessa Ormai YouTube è Saturn È una piattaforma satura Ci sono YouTuber che nascono, YouTuber che scompaiono Ogni giorno è un macello, è una mangrovie Farsi strada fra le mangrovie non è facile Fa elevarsi nella foresta amazzonica per raggiungere il sole Per effettuare la fotosintesi clorofilliana Non è semplice Soprattutto se inizi senza avere le conoscenze Senza avere delle amicizie Che possano darti la mano A venire su, Gesboro Non è facile, non è semplice Ve lo posso assicurare L'ho provato sulla mia pellaccia schifosa Pellagra Perché mi so veneto, no? Magno pointa, mia peagra, vabbè Magari collaborare con un YouTuber più grande di te Può darti sicuramente una gran mano Però sapete come la penso Non vado ad elemosinare Perché mi sembra di elemosinare Le visual da uno YouTuber che ha più iscritti di me Questo è il mio pensiero E per questo che non mi vedete fare tante collaborazioni Ecco Quindi da ottobre all'incirca marzo 2017 Ho caricato una trentina di video Ma senza ottenere risultati Proprio risultati minimi e pessimi Rimanevamo sempre fermi sui 69 iscritti E voglio aprire una parentesi qui Quando non mi si infilava Mi infilava? Quando non mi si filava nessuno di striscio Ci fu Spawn Che mi diede una grossa mano Con svariati consigli su come migliorare il canale E di questo gli sono molto grato Vecchio Veramente Sei stato sempre disponibile E non penso di averti mai ringraziato pubblicamente Quindi Grazie amore Arriviamo a marzo Fioi Perché marzo? Perché a marzo Arriva questo mio caro amico Da 12 anni ormai lo conosco Parrini Web Su Youtube Parlo Tutorial Esperto di informatica E sul web Se la destreggia non bene di più Mi fa Vez Ho scoperto che volendo Si possono avviare campagne pubblicitarie E sponsorizzare il proprio canale Con Google AdWords E sbolo Provemoghe A parte che La campagna pubblicitaria Me l'ha gestita in modo egregio I dati parlano Fioi Abbiamo racimolato 10.000 di voi Cioè capite In poco più di due settimane Sono tantissimi Per un canale che Partiva con 69 iscritti Risultati stratosferici Davvero Non ce l'aspettavamo Sbalorditi Soddisfatti Procediamo Fino ad ora Fino ad ora abbiamo fatto Serie Squadra ignorante Da settimana Non c'è più perché hanno sospeso Il fante ignorante Riprenderà quest'estate State tranquilli Road to Blasphemy For Honor Battlefield Destiny 2 Parentesi Non porto Rainbow Six Non porto COD Non li posso vedere Non mi piacciono I giochi che non mi piacciono E i giochi che mi stupano Non li porto sul canale Boom Adesso voglio rispondere a una domanda Che mi avete fatto sempre A cui ho risposto vagamente E quindi Andiamo nello specifico Perché hai iniziato a fare il video su YouTube Cosa ti ha spinto Ad iniziare Questo percorso Beh allora Diciamo che Mi piace stare per i cavoli miei In quattro mura Bello di Sono un po' strano Durante la mia adolescenza Passavo le ore Su YouTube Guardare video degli altri Sbregarmi Eccetera Eccetera E questa cosa Mi ha spinto ad intraprendere Appunto questa Chiamiamola carriera Chiamiamola carriera Influenzato anche e soprattutto Dagli YouTuber Che seguivo E che seguo tuttora Soprattutto Johnny Crick Perché Fiore è stato il primo canale In assoluto A cui io mi sei iscritto Di conseguenza E me la go Gli Inav Channel Stessi Le leccate di culo No Recentemente Ho scoperto Che seguono i miei video Alcuni YouTuber Affermati già Nella community Italiana E questo Mi ha fatto esplodere il cervello Fiore Lavatemi di spero E' stata una grandissima soddisfazione Ecco Proprio il Ciligine Sulla torta Di questo 2017 A posto Io non devo dire altro Volevo aprire il 2018 In questa maniera Non con urla E devastazione Ma Un attimo Facendo il punto Della situazione Voi Siete una fanbase Con Una palla così E l'altra così Perché si sa No che Abbiamo sempre Una un po' più grande L'altra un po' più piccola Leggermente Però quindi Un due Uno scroto Così siete Così Perché ragazzi Perché Mi date un feedback Che è allucinante A parte quei due Tre mongoli Che scrivono Che ci sono dappertutto Per la maggior parte Mi mostrate Un gran supporto Gran supporto Gazebolo Quindi Fioi Io vi ringrazio Per essere eccezionali Qua un altro Che mi scriverà Leccata di Tua madre Per oggi è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Io la vedrei bene Con Una Pizzicata Di Smeg Ma lì Lì E non ci becchiamo Alla prossima Ignorantata Alla prossima Alla prossima Alla prossima